Buongiorno gambe gonfie a donne incinte, SOS estetista, risolve tutti i problemi. Oggi faremo vedere la tecnica di linfotrenaggio che a mio avviso è l'unica tecnica che sgonfia, drena, stimola la diurisi e allevia anche il dolore. La signora qui presente ha avuto già questa occasione di provarlo due cicli, quindi 20 linfotrenaggi, ottenendo degli ottimi risultati. Il massaggio parte sempre stimolando i gangli linfatici e la mia tecnica è un pompaggio e un drenaggio proprio per consentire la stimolazione e lo scarico ai gangli linfatici. Sentiamo il parere della signora che è arrivata qui e era molto preoccupata per il suo stato di salute. Beh sì, effettivamente sono arrivata qui con delle gambe alla soralella e già dalla prima seduta ho trovato beneficio, sconfiore, tranquillità proprio nel camminare e non avevo più dolori perché le gambe proprio erano doloranti da non dormire la notte. Adesso molto 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 meglio e dalla soralella sono diventata gallafracci. Premetto che sono al nono mese di gravidanza, quindi quasi alla fine e quindi chi è incinta capisce bene la problematica. Ok, grazie carissima. Grazie a voi. Dico sempre sì, il linfodrenaggio è una tecnica in superficie che stimola però a mio parere ho constatato proprio con l'esperienza che deve essere molto lento ma anche profondo altrimenti il massaggio poco fa senza causare chiaramente matomi o rotture di capillari, questo è molto importante, quindi deve essere una pressione che la persona sottostante non sente dolore. Ok, questo è tutto, SOS Estetista vi saluta al prossimo incontro. Ciao.